sapete cosa va molto di moda mangiare in questo periodo niente perché di gran tendenza il digiuno ma come quello che ti fa morire di fame un giorno dopo l'altro finché sparisci del tutto no parlo di quello che alterna l'assunzione di cibo a momenti di riposo del metabolismo il digiuno a intermittenza è uno dei programmi nutrizionali più in voga e più in circolazione la cosa interessante è che a differenza della dieta che ti dice cosa mangiare e cosa non mangiare il digiuno a intermittenza ti dice quando mangiare e quando non mangiare in pratica si limitano le ore in cui mangiare all'interno della giornata o durante la settimana tutti parlano dei benefici per la salute aiuta a introdurre meno calorie fa dimagrire alleggerisce il sistema cardiocircolatorio regola i livelli di zucchero nel sangue migliora la pelle e io sono d'accordo infatti ho parlato a lungo del digiuno anche nei miei libri di naturopatia e alimentazione naturopatica e oggi voglio darvi tre consigli come naturopata ma prima voglio dire che il digiuno non fa per tutti serve quando ci sentiamo intossicati gonfi stanchi con poca concentrazione se il nostro sistema è sovraccarico va bene procurargli una pausa e alleggerirlo altrimenti continuiamo con la nostra alimentazione equilibrata ogni giorno e ora i miei tre consigli per il digiuno primo non fare mai digiuno secco ma umido cioè durante il digiuno bisogna bere molti liquidi più del solito i più indicati sono acqua naturale tisane leggere brodo vegetale acqua e limone estratti di verdure verdi secondo il momento più delicato non è quando si smette di mangiare ma quando si riprende bisogna riprendere gradualmente magari con una vellutata di verdure qualche cereale integrale un po di legumi terzo dopo il digiuno consiglio di non ricominciare a mangiare partendo dalla frutta contiene molti zuccheri e molti acidi della frutta e per questo non è l'alimento ideale non seguire la moda segui chi ha esperienza se ami anche tu la salute naturale metti un bel mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao